A Tutoriality, la vendetta dell'isola, casting, provino numero 8 Scott, la Iena Per il mio provino farò vedere come il mio vecchio mi ha insegnato a cacciare i topi dalla cucina C'è un altro animale! Se ti piacciono le mie mosse, Chris, chiamami, ci penso io a colpire la tua isoletta A Tutoriality, la vendetta dell'isola, in anteprima mondiale da lunedì 9 gennaio, tutti i giorni alle 19.50, su K2